Massimo Provinciali, segretario dell'autorità portuale di Livorno. Segretario, c'è stata una nota, qualcuno ha chiamato nota di FIDAD, di Cantone, in seguito alla quale lei deve scegliere tra segretario dell'autorità portuale di Livorno o presidente, amministratore, gatto, rapporto 2000. Domanda, cosa sceglie? Dunque, allora intanto per fare chiarezza, c'è la delibera dell'ANAC che ha rilevato la sussistenza della incompatibilità tra le due cariche. Noi avevamo ben presente questa possibilità, quello che speravamo era di averla giustificata perché è stato fatto tutto alla luce del sole e con molta trasparenza, con la temporaneità ed eccezionalità della circostanza. Nel percorso della gara i due soci avevano ritenuto di individuare un'amministrazione istituzionale e non a caso anche il collega segretario generale della Camera di Commercio e nel Consiglio di Amministrazione. Questo come premessa. Quindi si tratta di una irregolarità amministrativa sanabile e niente di particolarmente grave o sospettoso. Mi adeguerò tranquillamente al disposto dell'ANAC e ovviamente lascerò la carica accessoria, cioè quella di amministratore delegato della Porto 2000, manterrò la mia carica principale, quella istituzionale, che è quella di segretario generale dell'autorità portuale, nelle more dell'attuazione della riforma ovviamente. Questo segretario può apportare e comportare dei ritardi alle gare che ci sono in esse, cioè quella della Porto 2000 in pelle in pelle, diciamo, c'è i bacini e poi la mamma di tutte le gare è quella della piattaforma Europa. Allora, questo in assoluto sicuramente no, sicuramente non per quello che riguarda la piattaforma Europa e i bacini. L'unica gara in cui, diciamo, sono coinvolto con un doppio ruolo potrebbe essere quella della cessione delle quote della Porto 2000, ma rinunciando alla carica in Porto 2000 mantengo da segretario generale il ruolo di RUP di questa gara. Per maggiore tranquillità, proprio perché, come ripeto, abbiamo sempre fatto tutto alla luce del sole e chiedendo conforto al Ministero prima di fare passi delicati. Oggi facciamo un quesito al Ministero per capire se nella circolare che hanno emanato, dicendo di abbassare i ritmi di attività delle autorità portuali, va compresa anche la conduzione delle gare oppure solo la straordinaria amministrazione.